Caro, Migliorini e Cicerelli non si sono allenati, le loro condizioni sono da monitorare in questi giorni. Ventura spera di averli a disposizione ma naturalmente bisognerà valutarli giorno dopo giorno. Caro e Migliorini si sono infortunati durante la sfida con il Cosenza. Il Cipriota, tra l'altro, è stato anche sostituito mentre Cicerelli è fermo dal match di Pescara. Per il laterale, a differenza dei suoi compagni e di Lopez, fermo ai box, non c'è alcun problema muscolare, ma creare fastidio e la ferita alla caviglia. In teoria tutti e tre potrebbero essere recuperati, ma bisognerà verificare e capire il tipo di lavoro che i tre giocatori potranno effettuare nel corso della settimana. Aia, Erto e Cursio sono in preallarmi, anche se per lo schiaramento bisognerà capire l'intenzione di Ventura sul modulo da adottare. La settimana di avvicinamento al derby della Salernitana è soltanto iniziata, così come quella dei tifosi che hanno polverizzato in sole due ore la scorta di 1.663 biglietti del settore ospiti dello stadio Vigorito. Ora c'è solo la possibilità di acquistare biglietti per gli altri settori. Ci saranno 2.000, forse 2.500 supporta sgranata al seguito per una partita assentita, ma soprattutto importantissima per la classifica della Salernitana. Grazie.